Lo fai spesso? Cosa? Di mettere gli annunci? Sì. Perché ti sei trasferita qua? In lavoro. Posso tenere la camera? Non abbiamo bisogno di nessuno. Vuoi scopare? Non conosci un altro modo di parlare? Tu come dici? Non così, non scopare. Lo sai da dove viene? Riconosci? Riconosci i suoi. Perché dormi sulla barca? Ci sposiamo. Cos'è questa storia della condizionale? Cos'hai fatto? È stato un incidente. Tony lo sa? Glielo dirai. Te l'avrei detto. E perché non l'hai fatto? Sei sicura di volerti sposare con me? Sei sicura di volerti sposare con me? E Ric Exity alieni non il ufficiale. Perché non l'hai fatta. Come ci possononé? breo da dato che non l'hai fatta. E così era difficile. E adesso credere. Tu sei. Grazie a tutti